live buonasera a tutti ragazzi non c'è nessuno quando lo vedranno siamo in live ok a posto si vede tipo uno schifo ragazzi si vede tipo uno schifo allora mi raccomando ragazzi niente robe non famo i scemi non gridiamo e soprattutto tanto penso che non non diciamo le parolacce mai che youtube non vuole le parolacce perché sennò ci bannano questo è under 21 io ora ne dico di tutti i colori per rovinare questo canale Manuel tanto non mica banna a te banna il tuo canale comunque fra ti voglio dire che ha la faccia tua e che domani e domani mattina ragazzi ne facciamo un'altra live con ma dove ti chiamo scusa la caspita dove ti chiamo e francesco del rito francesco francesco sanno gli snappi togli la lagga togli la lagga tutto lagga tutto non ci provare non ci sta si c'è c'è papà la sta vedendo come ha fatto oddio ragazzi è troppo bello ma sono io il capo della live dammi un'arma se l'ho messo te l'ho fingata che ha messo per valore fammi sapere aspetta papà dia francesco che non mi hai messo e cioè francesco denrico dove è l'arma eccola è francesco denrico saverio denrico ah gaitano denrico oddio se mi vedete un po' nabo perché è l'ultima partita del giorno poi non a geni mi sono pure arrabbiato su apex quindi ma non è vero se volete altri no veramente sono arrivato il secondo dai dai oh oh ragazzi amici ragazzi che scherzavo nemici eh vabbè ragazzi due conto uno il tattico contro lanciarazzi grazie 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 bro non c'entrano morimo morimo i due ragazzi sono due comunque non lo so e dov'è il mio telefono eccolo vediamo un po' la live allora scusate per la qualità che fa un po' schifo però va bene eh 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 ragazzi ragazzi voglio il post al stand francesco tu no no sto scherzando eccola dal vivo oh minchia oh no dal vivo non minchia ma bello ehm mi raccomando ragazzi tra un anno eh Francesco è spazio tranquilli la cittura vabbè eh ragazzi aiutatemi e allora volevo dirvi e vabbè vai vabbè questo era un attimo siamo atterrati male perché dovevo accendere la live e commenti vediamo i commenti vengono in realtà di qui non c'è nessuno con un commento vostra madre allora vediamo ah 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 allora basta anche qua mi hai fatto perde tutti i punti no no io basta io non ne so con un'altra oh vabbè tanto con questa live con questa live di merda chi è che ve la vede ve la vede i barboni che stanno sotto il ponte se manca c'è nel cellulare oh dai dai andiamo a trovare un po' di scarse andiamo a ararli va dai comunque non mi avete mai visto il mio armadietto il mio armadietto guardate qua quante cash guardate qua oh dai erano texetto erano texetto hai detto che non vuoi fa più metti pronto dai manu vabbè ah non ti spammo eh dai manu manu ladro manu ladro ladro oh manu vabbè vabbè oh giuro che ma regalo almeno pure voi vedete la live ma che me ne forse io sto a giocare questo voi mica perdere francesco per 10 punti con voi ce ne vedo 50 eh perché tu sei avrà la faccia 2 che sei andato in divisione 5 che che ci ha fatto mandare provo a vincere soldi nel torneo venite a perdere va bene guardo la live di crazy mad ma dai sto scherzato tu come ti chiami su youtube vai Gaetano Delrico Gaetano Delrico non serve ragazzi lasciate un like ragazzi oh però pure voi mettetelo like e iscrivetevi se non vedo i vostri nomi e i vostri like giuro che c'era niente mi fanno piacere attacca a bussillo eccola eccola ora quanto sono un pro oh no vada c'è un like c'è un like no 0 0 iscritti zero commenti oh dai oh raga dove vengono andà rimane 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 si è tu ti è mangiato con il scherzato andata a borgo andata a borgo mangiati il il grubino e non so l'orlog vicino stai a doccia 10 no no raga ragazzi chi è adesso vedrà la live scrivetemi nei commenti se volete non fa il trattenimento adesso non c'è nessuno perché non c'è nessuno proprio su buono tua nonna buono manu con quel piccone che c'è si vede pure dal vulcano vabbè comunque sono scarso vabbè ho capito dai porco buono vuono muori 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 dai muori 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 papara pura pura ok guardame guardame ma cos'è escape room ciao guarda 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 buono ma devo solo giocare buono guarda guarda me guarda me non c'è comunque c'è a me ma comunque dobbiamo giugare serie perché dobbiamo cercare ma domani mattina ci sei te e allora famo una live un'altra live comunque non ve lo consiglio di fare la live adesso io l'ho fatta per divertimento e ne farò pure altre però non la fate perché è bruttissima sì c'è un problema però c'è un solo problema cioè io ho perso tutti i punti ma avete fatto per 150 punti come lo mettiamo domani mattina faremo che so un po di creativa un po di parco di parco un po di coppie noi ragazzi facciamo questa partita un'altra poi stacchiamo anche se durata poco la c'è fatto un video di 15 minuti dopo non sta concentrati io per 50 punti a botta che calcio si è trovato tranquilli tanto non famo questa partita è muore tanto sicuramente muore mica poi vince sia pure fuori safe quindi nei cessi stasis e facciamo questa un'altra partita faccio un video di 12 minuti 13 e apposto no guarda io se no se perdiamo il treno ti vado a giocare in a singolo si manu guarda che devi fare un'altra perché cioè io adesso vorrei mandarmi uno screen se riesco buono ti mando lo screen di come di come ciao 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 ah ragazzi come non detto ma quando era staccato io ho letto in mezzo infatti c'è area qualcuno ma tu vai via quando è che vai via tipo un'altra partita io assi lo dico proprio che devo fare aspetta aspetta papà devo fare un'altra partita poi stacco non basta ma non finisce la partita ma tu la guardi finisci la e cioè è nel senso ma bava prende qualche anno e va a push al che dovevo termina la live no basta termina la ma io vedi come perdi ecco allora siamo così ragazzi allora questo è l'insegnamento se i vostri due compagni sono morti perché si sono distratti e noi perché non avevo armi cioè c'è la regola c'è la sua fa lo shield va bene va bene però c'è io che c'è 2415 punti non è tutto per 250 a me poco è poco poco secondi tutti i posizionamenti in una partita delle te ne te ne te ne fai un quarto è fra l'ho nato fra che ho avvenuto perdo vabbè vai proprio fai fai subito perché io devo andare via no mi sei bloccata la mappa allora se tu stai qua vai in safe qua vai qua mi sei pure bloccata la mappa bro se lo so se lo so se lo so va qua vai qua vai qua quando arrivo fai la trova no vai vai adesso guarda che ti sta qui la safe tranquilli ma sto in live ma sto in live mentre mangi fai live mentre mangi fra mano 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 vai corri ecc no mangi sull'altro come vincere con zero kill tutto ora guarda che se è morto senzarmi devi arrivare qui eh vabbè ciao bro muori perché io la nedbl insivo della Eh non è bagnato No non è bagnato Venite all'avanti Sì mi vengo ho detto Anzi bro stai laggando Bro stai laggando un tot Stai laggando Io pure sto pingando 70 però vabbè Vai a rift Vai via E prendi la il drop Eh non ho già non la presa Però diventate Sì fra guarda che la prossima è veloce Allora Allora io adesso Sospetto che la safe mi arriva Quante Non c'è più nessuno Mi vado a riprendere E così vado lì Alla spolla Ma quando è la top? Mmm non lo so Porca miseria Molti riftano Bro C'è pure uno streamer di twitch Te lo voglio dire Cioè Non lo so Tra sta partita E quella di Due fa Veramente Ma prende l'overboard Nuovi corri 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 Ti ho detto che è veloce Non sei morto Sono morto io Ti ho detto che Dovi ricorre Se non mi ascolto Non mi muori Perché Fran Ho già ascoltato Che cavolo Sono proprio insieme Che Lo so Che sta apposta Ma è Usa il busto Ok Ti pare che non spareranno Uno senza armi Con l'overboard Che pare che non vi sparano Tanto la gente è gentile E mica Si fa partire Eh Ma su questa modalità Proprio Gentilissima Tra la rotation Oddio Vai corri vai corri Non aspettai che c'hai la safe dietro al sedere Chiedo che se c'è gente Io Vai corri 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 Devo recuperare un'arma però Fra O fai la challenge senza armi Cosa che stai già facendo Vai vai dentro Vedi dentro No No Sarà Ma la prossima Volendo E mi inganno C'è gente lì Oh Vai qua Io ho una Vai qua Vai qua No c'è i nemici No Si c'è i nemici Vai qua Allora vai qua Vai prova a montagnole Prova a montagnole Eh no Però devi passare per cosa C'è il drift C'è il drift board Con delle armi Sotto Dietro Drift board con armi Mi traietto Vai prendi il drift Ok Vai a montagnole No vai a montagnole col drift Ti prendi il tail drop Bru Francesco Eh ragazza con la live Devo andare Ehm Ciao Prama Prama Adesso Si In onda Ehm Sto spegnendo Aspetta Ehm Condivisione musica Salve Non so come si spegne a live Te lo giuro Ma tu l'hai spenta la live No Sto spegnendo Imposazioni condivisione Trasmissione Avvia share play Mi piace il play Oh minta Eh io ho quitto Ciao Ciao